C'è qualche domanda? Una domanda ce l'ho io come ha detto prima cioè deve stare attento a non far capire a Radarani che vuoi andare da Krishna no? no no, come io diciamo da poco da poco, poveretto ma quindi c'è come si infastidisce Radarani? ma non è che infastidiamo Radarani? non sta capendo cioè lui ha detto prima nell'esempio che però non devi cioè devi stare attento perché se Radarani capisce che tu puoi andare da Krishna non ti fa entrare dentro casa come si infastidisce quindi come dobbiamo quali sono le cose che non dobbiamo fare per fare per non far capire questa cosa cioè quali sono le cose che gli danno fastidio a Radarani? before you said that if you want to go to Krishna and Radarani see this she will get disturbed so how we can do it? to not make disturbed ok quali sono le cose? you know no then you have to become you can go to Krishna after disturbing Radarani you will go only to become friend of Krishna andrai per essere però soltanto un amico di Krishna se crei un disturbo a Radarani può anche avere un amore materno per Krishna però al stesso tempo she will not come to cook if you have to bring her però lo stesso modo se tessa la mamma di Krishna Radarani non verrà a cucinare per lui and Madrasodha knows when Radhika will cook Krishna will become very happy and her hand is a healing if she cooks is a very good for the health for Krishna però Madra Yasoda sa che se Radarani gli cucina quello è molto buono per Krishna diventa molto felice so Radhika also Krishna Yasodha Mah Yasodha also like too much Radhika e quindi anche a Yasodha Mah gli piace molto Radhika only the friends of Krishna because they are boys and they are different cows department so they mostly live with the cows and the cowboys Gopakumara that only mood is easily possible escaping to Radhika or you can go to the Dvaraka Rukumini Krishna or you can go to the Matra Kupjaya Krishna Kupjaya Krishna Krishna alone with the kansas and different and different Krishna and different with kamsa when he is alone when he is alone with kamsa and kubjaya or you will go to Kurukshetra or Kurukshetra this Krishna you can see but this all are Narayana Krishna this Krishna one can have a relationship without to the Dharani but these aspects of Krishna are in opulence Narayana Krishna she has to go she has to go so she has to take her napkins she is sorry about she has to go excuse me but we are very far away from venue maybe in Viterbo it's more than an hour thank you thank you thank you thank you so you can see Krishna because after when I read some interview too good thanks I the could hear you good good bad good 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 Non stai a dire perché dici stupida, perché se le cose si imparano, ma sei sicura? Qual è il mio desiderio? Qual è il mio desiderio per la realizzazione? Tutto dipende tutto dall'associazione e dalla misericordia di Krishna, purva-samskara, e dalla samskara, da un buon samskara, da vita passata. Chiedegli Krishna manda Uddhava a Vrindavana perché voleva che le gopi lo addestrassero per poter rivelare, aprire il suo cuore a qualcuno, a Varaka. Krishna senti Uddhava a Vrindavana so that the gopi could teach him about how he could open his heart in Varaka. But the gopi did not give logic teaching, like diplomas. Allora, in che modo il maestro spirituale può ottenere questa misericordia nonostante che è ancora nel corpo, non di gopi, ma di… in che modo può ottenere questa opportunità di rivelare l'amore delle gopi? Cioè, se Uddhava non era uscito, in che modo il maestro spirituale ora si capatta e riesce in questo stesso corpo ad ottenere questa qualità suprema? Cioè, se Uddhava non era uscito, come è possibile per il maestro spirituale capo ottenere queste sensazioni di Gopi e rivela anche per le disciples? Come è possibile per il maestro spirituale capo ottenere queste sensazioni di Gopi? Come è possibile per il maestro di Gopi? Come è possibile per le disciples? Come è possibile per il maestro di Gopi? First thing, Uddhava è il figlio di Vrajpati. Uddhava è il figlio di Vrajpati. Si, più facile. Louder, adesso si puoi sentire. Loud. Uno, più facile. Uddhava è il figlio di Vrajpati. Il figlio di preaspati è un figlio di preaspati, molto conosciuto, molto brillante, molto qualificato, pieno di conoscenza. Lui conosce tutta la filosofia, tutti gli argomenti logici, e Lui è così vicino a Krishna che assomiglia anche a Krishna, si veste come Krishna e cammina come Krishna. E quindi era molto attaccato a Krishna, ma Lui vede l'aspetto di Krishna dell'opulenza, lui sente Krishna come Dio, come il Supremo. Un giorno Krishna era seduto da solo e i suoi occhi erano pieni di lacrime. Allora Uddhava arrivò in quel momento, allora Uddhava gli chiese perché sta piangendo, cosa sta pensando. Krishna provò ad evitare il discorso, non voleva parlare di quello. Uddhava faceva della pressione, allora Krishna gli confidò che era preoccupato riguardo di Vrindavana, di Madriya Soda, delle gopi. Io ho provato a convincere mia madre che io sono Dio, però non era pronta per accettarla. E lei ancora pensa che io sono un bambino, che sono il suo figlio. E lei ancora pensa che io sono un bambino, che sono il suo figlio. Pensa ancora che io sono il suo bambino. E tu sei un grande pandit, puoi convincere la mia madre, e venire, 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 venire. E Krishna gli dice, però te sei un grande pandit, e quindi provo ad andare da Madriya Soda, a convincerla con la logica, con la conoscenza, a tirare fuori dalla sofferenza in separazione che ha con me. And, he said, one gopis are also there, my friends are also there, you have to convince with the logic that I am a god and I have no cross, I have no, I am a, no desire, no wish. Why do they think that I have a desire, a wish, and I have a love? They don't understand who the, you go and give logic and philosophy and settle down to everyone. If you say to the knowledgeable person, go and teach, he will be very happy to go. But if you say to the person elevated with education and knowledge, go and learn from someone who is a village girl, he will say, oh, you crazy or what? So Krishna, you know, very tricky. He makes one trick that he goes and understands what is the higher. And this teaching, he wants to teach us about that. And then, only by the grace, you know, Nitya Siddha, Sadhana Siddha and Kripa Siddha, there are three stages of the Nitya Siddhas, because the gopis and sakkis, who always stay with the Krishna, they are Nitya Siddhas, like Laita, Vishaka, Chitra, Champagalata, who are always there, Jasoda Mata, Nanda Vava, they are Nitya Siddhas, they always move with the Krishna. And Nitya Siddhas, Sadhana Siddhas, like Ramavatar, ten thousand years, Tapa. And then they got the association of the wife of Krishna, like the queens of the Krishna, Dvaraka. And that is Kripa Siddha. By covering this material body, by the grace of Gurudev, when we realize our spiritual identity, that the moment is the mercy. We relate with Krishna without doing that, not any more practice, no good karma in life. But by the grace, everything happened in my life. And this, when we practice, when we leave this body, we straight go to the direct place where I want to practice. I am doing and living in this body. That is the great one. Nitya Siddha Krishna Prema Saddha Kaburaya. Nitya Siddha is a Nitya and Siddha, Krishna Prema. But there is no any, show me any thousands, two thousand, five thousand books, how to get the Krishna Prema. There is no any reason prescribed medicine. No any prescribed way that you do this way, you do this way, you wake up at morning four and you will get the Krishna Prema. No more. Non c'è nessuna pratica sicura, nessuna sicurezza che se te la fai puoi ottenere l'amore per Krishna. Non c'è una spiegazione di una via per ottenere questo. Non c'è una cosa prescritta sicuramente. Non c'è una via logge, razionale, diciamo, tra i vis, tra i vis, tra i vis. No, I've seen Brindavan in many places. They are doing Danduvas Preskriva. What was that? Che fanno? One place, one hundred eight. C'è una conversazione di un anno. Anche con cento-otto sanzi. He was a renounced person. And when he close come to me, too much money started coming to him. And he ate. And he ate. And he ate. And he became rich guy because somebody started giving charity, one hundred eight times, one place. Most people also gave care to him. We made sadhana. And when one kilometer left, he went, his desire happened to go to the marriage. And he made the family. Allora ebbe il desiderio di sposarsi, quindi lascio tutto e l'andò a sposarsi. You see? Nid siddh krishna prema sadh kabunayu, no any prescribed medicine of any way. Non c'è nessuna cosa prescritta sicura per poter ottenere il krishna prema. Suddha citta, the one thing is only suddha citta. L'unica cosa è che il nostro cuore deve essere puro. Softness, purity, soul, only purity is when you realize your spiritual identity. Sravonadi, by listening, by drinking from the air. Ascoltando, bevendo il nettare dall'orecchio, attraverso l'udito. Suddha citta, sravonadi, karaya udaya, automaticamente it's sunrise, without doing no effort, it's sunrise. Automaticamente sarà come un'alba interiore, sorgerà questo amore dentro di noi. Senti, scusa, io vorrei chiedere una cosa. Siccome prima ha detto che la misericordia del guru ci aiuta a far discendere queste intuizioni per capire Radarani, Krishna, allora quando uno fa i giri ogni tanto dovrebbe pensare al suo maestro, al suo guru, quello che gli ha fatto l'iniziazione, diciamo. Si deve pensare. For you told that we can only, we can get only this prayer by mercy of the guru. So it's important while we are chanting a mantra to think about the guru? Sometimes. 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 We have to pray to guru. Yes. But, at the time of chanting, you have to see the Radha and Krishna, the goal of your body. But, at the time of chanting, you have to see the Radha and Krishna, the goal of your body. This is the mantra for the connection. This is the mantra for the connection with Radha Krishna. But, before chanting, I can, a hundred times, I can pray to my guru. No, before chanting, I can, a hundred times, I can pray to my guru. Ah, I can pray to the guru. Yes, I can pray to the guru. But, at the time of chanting, meditating the mantra and the ista, but, at the time of chanting, we have to meditate on the mantra. Master is a way. It's not a goal of life. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. Jesus said, I am the way. I can show you the path. I will navigate. I can show you the way. Anche Gesù lo diceva, io sono la via, sono come un navigatore che posso mostrarti qual è la via. Vorrei che Gurudeva mi spiegasse la relazione tra Krishna e Mirabai. Si, vuoi se non c'è la relazione tra Krishna e Mirabai. Come se non c'è Radhika con Mirabai. Insieme a Mirabai non c'è Radhika. I cani. E allora, and therefore, what is it? So there is no space in Brindavana. Doarika. Perché Mirabai is thinking that he is my husband. Perché Mirabai vede Krishna come suo marito. And our Gaudiya Siddhanta, she is the lover of Radhika. Il nostro Gaudiya Siddhanta dice che lui è soltanto l'amante di Radhika, di nessun altro. So you have to take center of Radhika to understand Krishna. This is Gaudiya Siddhanta. Il Gaudiya Siddhanta dice che noi per comprendere Krishna dobbiamo prendere rifugio in Radharani. We don't understand Krishna because we want to escape Radhika to understand Krishna. Perché non comprendiamo Krishna? Perché non vogliamo accettare Radhika? E allora come mai a Brindavana c'è il Tempio di Mirabai? And whether he is in Brindavana, Tempolo Mirabai. She comes there and she realized her mistake. She realized her mistake. But you see any Gaudiya met people who go to Mirabai temple. No, però se ti metti davanti al Tempio di Mirabai, vedi qualche Gaudiya Vashnava che va al Tempio di Mirabai? Perché è un altro tipo di sentimento, quindi confonde il sentimento del prendere rifugio in Radharani. You only decide to take center of Radharani and how life changes, you see. Se noi prendiamo rifugio unicamente a Radharani, possiamo vedere come la nostra vita cambia. Tutta la conoscenza, i sentimenti inizieranno a manifestarsi. Il 경우에는 sostanzialmente a città che sei stupendhoo di un anno. Tutta la mia ragazza 11 term, fare solita di Babai in Righa. Tutta la mia ragazza a nós? Certamente esame un anno. E se noi sappiamo un anno che non ci ci percebe. Quanti anni? Conoscete la storia? Un e un po' Sì 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 Se uno non ha realizzato qual è la sua forma, qual è la sua relazione con Krishna Anche se, facciamo un esempio, io faccio un esempio come madre lo stesso devo meditare su Radha Cioè se io all'inizio non lo so, medito lo stesso su Radha tutti medito Sì 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 PANDIT è nella realizzazione, ma non nella conoscenza. PANDIT è la questione, ma non c'è la realizzazione. Ah, questa associazione? Se io non so, se io seguo la madre Yashodama o Radha o Rasaka, allora... Questo è quello che dovete chiedere dal Guru, qual è il vostro mood. Ma questo è importante. Dobbiamo chiedere al Guru qual è il nostro percorso a seconda di qual è la nostra attitudine. È molto importante. Senza conoscere questa relazione... Tu sei una madre, sei molto vicino al tuo figlio. Non c'è bisogno di insegnare al tuo figlio. Non c'è bisogno di insegnarti come relazionare con tuo figlio. E lui è tuo marito e sei molto vicino a tuo marito. Certo o no? Giusto? Si... Quindi... Se la relazione è quella anche dicienso. E si... Sì. Sì, Sì sì, è il mio gruppo. Sì? Do, do. I ho do... Sì. Sì. Quindi è il guru che mostrerà il nostro articolo? Sì, il guru Krahman, il guru, il guru, il guru, il guru.